Liturgia della Parola, quarta domenica del Tempo Ordinario, anno B Dal libro del Veteoronomio Mosè parlò al popolo dicendo «Il Signore tuo Dio susciterà per te, in mezzo a te, tra i tuoi fratelli, un profeta pari a me. A lui darete ascolto. Avrei così quanto hai chiesto al Signore tuo Dio, sull'Oreb, il giorno dell'assemblea, dicendo «Chi io non ho da più la voce del Signore mio Dio, e non veda più questo grande fuoco, perché non muoia». Il Signore mi rispose «Quello che hanno detto va bene. Io susciterò loro un profeta in mezzo ai loro fratelli, e gli porrò in bocca le mie parole, ed egli dirà loro quanto io gli comanderò». Se qualcuno non ascolterà le parole che gli dirà in mio nome, io gliele domanderò conto. Ma il profeta che avrà la presunzione di dire il mio nome, una cosa che io non gli ho comandato a dire, o che parlerà in nome di altri dèi, quel profeta dovrà morire. Parola di Dio Ascoltate oggi la voce del Signore Venite, cantiamo al Signore, acclamiamo la roccia della nostra salvezza. Accostiamoci a Lui per rendergli grazie, a Lui acclamiamo con canti di gioia. Ascoltate oggi la voce del Signore Entrate, prostrate adoriamo in ginocchio davanti al Signore che ci ha fatti. È Lui il nostro Dio, e noi il popolo del suo pascolo, il greggio che egli conduce. Ascoltate oggi la voce del Signore Se ascoltaste oggi la sua voce, non indurite il cuore come a Meriba, come nel giorno di massa nel deserto, dove mi tentarono i vostri padri, mi misero alla prova pur avendo visto le mie opere. Ascoltate oggi la voce del Signore Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi Fratelli, io vorrei che foste senza preoccupazioni. Chi non è sposato si preoccupa delle cose del Signore, come possa piacere al Signore. Chi è sposato invece si preoccupa delle cose del mondo, come possa piacere alla moglie, e si trova diviso. Così la donna non sposata, come la Vergine, si preoccupa delle cose del Signore, per essere santa nel corpo e nello spirito. La donna sposata, invece, si preoccupa delle cose del mondo, come possa piacere al marito. Questo lo dico per il vostro bene, non per gettarvi un laccio, ma perché vi comportiate degnamente e restiate fedeli al Signore, senza deviazioni. Parola di Dio Alleluia, Alleluia Il popolo che abitava nelle tenebre vide una grande luce. Per quelli che abitavano in regione e ombra di morte, una luce è sorta. Alleluia Dal Vangelo secondo Marco In quel tempo Gesù, entrato di sabato nella sinagoga a Cafarnau, insegnava. Ed erano stupiti del suo insegnamento. Egli, infatti, insegnava loro come uno che ha autorità, e non come gli scrivi. Ed ecco, nella loro sinagoga, vi era un uomo posseduto da uno spirito impuro, e cominciò a gridare, dicendo Che vuoi da noi, Gesù d'Azzareno? Sei venuto a rovinarci? Io so chi tu sei, il Santo di Dio. E Gesù le ordinò severamente. Taci, esci da lui. E lo spirito impuro, straziandolo e gridando forte, uscì da lui. Tutti furono presi da timore, tanto che si chiedeva una dicenda. Chi è mai questo? Un insegnamento nuovo, dato con autorità. Comanda persino agli spiriti impuri, e li obbediscono. La sua fama si diffuse subito dovunque, in tutta la regione della Galilea. Carola del Signore Trevi